C'è una via per avvicinare i giovani al mondo dei libri e della lettura? Di sicuro ci sono i nuovi generi, o meglio non nuovi, ma quelli che stanno prendendo sempre più piede. Sto parlando del New Adult, Young Adult, Romance, Fantasy, quindi tutta quella letteratura che oggi, molto più di prima, ma spinge i giovani, soprattutto alle fiere, a comprare, acquistare e leggere libri, ma parlarne anche sui social, che è chiaramente la chiave principale per avvicinare i giovani alla lettura, ma anche per invogliarli a condividere le loro recensioni proprio su queste piattaforme. Chiaramente tutto il book talk e tutto quello che arriva proprio da questi social è la chiave principale per far capire loro che la lettura è soprattutto divertimento. C'è anche una via per avvicinarli proprio allo strumento cartaceo piuttosto che il digitale? Sinceramente io credo che in Italia lo strumento digitale, il rapporto, quindi l'ebook sostanzialmente, non abbia attecchito tantissimo. Noi siamo dei conservatori in questo senso e quindi siamo ancora molto legati all'oggetto libro. Ci piace entrare in libreria per i lettori ovviamente che non usufruiscono e quindi anche i giovani sono contenti di acquistarlo, secondo me proprio perché possono mostrarlo ancora di più sui social. Quindi sì, credo che in realtà questo rapporto non sia mai stato più bilanciato di così. Che futuro vede per gli editori e i giovani editori? Per i giovani editori non è semplice perché il mercato è abbastanza saturo e come dicevo i lettori giovani oggi danno grandi soddisfazioni, ma la fascia dei meno giovani è quella che forse dà meno soddisfazione. Di sicuro la riscoperta dei classici e puntare proprio sui giovanissimi è una chiave possibile per rilanciare questo mercato dei piccoli e medi editori. Che strada vede per avvicinare i giovani alla lettura? Per avvicinare i giovani alla lettura bisogna raccontargli che la lettura non solo ti salva la vita ma te la migliora anche. Gli studi ci dicono che queste nuove generazioni di giovani soffrono di depressione e che non riescono a trovare un senso alla loro vita. Bisognerebbe raccontare loro che il mondo dell'editoria, il mondo della creatività di coloro che scrivono è un mondo che può dare energie anche a chi scrive e quindi può essere una medicina per loro, un modo per, insomma come diceva qualcuno di importante, chi non legge vive una vita soltanto e invece chi legge ha la possibilità di vivere anche altre vite e quindi di magari trovare delle soddisfazioni o dei piaceri che nella propria vita non riesce a trovare. Accanto alla lettura c'è anche il settore dell'editoria che soffre, ci sono anche degli sbocchi professionali che lei vede per i ragazzi? Sicuramente sì, sono sbocchi nuovi, inauditi rispetto a quello che era l'editoria prima che ci fosse non solo la rete ma soprattutto l'intelligenza artificiale generativa che oggi è la cosa più creativa che c'è perché tutti si rivolgono a chat GPT per rintracciare dei contenuti creativi. I ragazzi oggi che vogliono affrontare questo mondo devono sapere che aspetta loro uno sforzo che è quello di tirare fuori la creatività che hanno dentro senza rivolgersi a strumentazioni tecnologiche. Le strumentazioni tecnologiche possono aiutare oppure costituiscono un ostacolo alla lettura? Le strumentazioni tecnologiche possono aiutare se vengono usate come strumenti, come mezzi di ausilio per riuscire a essere più creativi, per riuscire a trovare dei contenuti nuovi rispetto a quelli che si sono già visti nei libri che sono stati scritti nei tempi passati. Possono essere un ostacolo qualora le persone demandino alla tecnologia la capacità creativa perché allora a quel punto non c'è più il valore aggiunto dell'essere umano. Qual è l'obiettivo di questa iniziativa pesarese? Far conoscere un segmento di economia e di cultura spesso poco noto ai giovani. Si apre infatti questa mattina con centinaia di studenti degli istituti pesaresi per far conoscere il mestiere dell'editore. Quando passano davanti alle librerie vedono un negozio che vende pezzi di carta. Quando entrano capiscono che dentro ci sono dei pensieri che possono andare dalla poesia al romanzo, alla ricerca storico-scientifica ma che continuano a tramandare cultura e sono degli strumenti che non potranno mai essere superati dai social o dall'innovazione digitale perché il libro rimane sempre un oggetto che custodisce i nostri pensieri in modo indelebile. E quindi vogliamo continuare come Consiglio regionale a valorizzare l'editoria. Lo facciamo al Salone del Libro di Torino, lo facciamo da un anno a questa parte al Salone dell'editoria marchigiana. Abbiamo avuto la prima edizione l'anno scorso a Dancona. Oggi lo faremo questa mattina con i giovani a Pesaro come capitale della cultura e pomeriggio sarà proprio un momento di lavoro dedicato alla professione dell'editore con una tavola rotonda per parlare anche di una nuova legge. Il Consiglio regionale è sempre impegnato nel promuovere iniziative per sostenere la lettura e gli editori. È la seconda iniziativa che facciamo proprio in questa direzione, cioè quella di valorizzare gli editori marchigiani, soprattutto gli editori indipendenti, gli editori che portano avanti la nostra cultura, le nostre tradizioni, le nostre radici, scoprire i nostri scrittori emergenti. Credo che sia un compito fondamentale dell'Assemblea Legislativa che ha una casa editrice i quaderni delle Marche, che ha una lunga tradizione in questo campo e che vorremmo rinvigorire con questa iniziativa. È un'iniziativa, quella pesarese, che è un'anteprima di quello che sarà poi il Salone dell'Editoria Marche 2025. La seconda edizione. Saltiamo il 2024, la prima edizione è stata nel 2023. Nel 2025 torneremo in primavera con la seconda edizione del Salone dell'Editoria delle Marche, sperando appunto di far sì che questa iniziativa sia il preludio del Salone stesso. Grazie. 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 Grazie.